Un piano contro l'inflazione per recuperare i salari, aumenti mensili, stipendio. È stato siglato l'importante accordo tra il sindacato e l'azienda presso la granguezza di popoli dopo la richiesta sindacale. L'azienda ha stabilito che ogni mese, se presenti, le lavoratrici e i lavoratori avranno un aumento di oltre 60 euro. A questo vanno aggiunti gli importi aumentati per il contratto nazionale a gennaio e aprile 2023. Il totale di questi aumenti mensili superano i 100 euro. Non da poco inoltre le richieste sindacali nazionali hanno portato anche alla decontribuzione confermata per il 2023 con aumenti per redditi sino a 35 mila euro a partire da luglio sino a dicembre. Infine in granguizza è stato istituito il comitato unico di garanzia a sostegno di eventuali situazioni di disagio. Fai Cisla Abruzzo Molise e Flai CGL Abruzzo Molise hanno scritto una lettera al sindaco di popoli, Dino Santoro, chiedendo un intervento sull'ampliamento del parcheggio antistante allo stabilimento e la risoluzione del grave problema della scarsa illuminazione nel parcheggio. Ci auguriamo, scrivono, un intervento risolutivo a tutela della sicurezza verso gli interessati all'uso del parcheggio.